Parte con la mia memoria, quindi... 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 a sinistra a sinistra via a sinistra a sinistra Buona, ci strendizioniamo la base, più piccola la base, lavoriamo di più con la mano a piede, con la ginocchia, con il singolo, ok, allarghiamo la base come prima, con l'ampia, ok, il crocio è Quel'è, video, uno in altro, az No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.